Sequestrati 17 kg d'oro con marchio aziendale falso per un valore di 700.000 euro. Questo è il bilancio del blitz dei carabinieri di Arezzo all'interno di un'azienda ora fa retina. Si è trattato di un'attività svolta assieme al personale del servizio metrico, unità operativa, metalli preziosi e conformità prodotti della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, che ha avuto come finalità quella di accertare il rispetto delle norme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosi. Nel corso degli accertamenti così, la verifica dei punzoni in carico alla società e riproducenti l'impronta del marchio di identificazione assegnato ha consentito di rilevare che 29 di questi risultavano smarriti senza che ne fosse stata presentata la relativa denuncia. Uno riportava invece il marchio di un'altra azienda del settore e un altro, benché riproducente il marchio aziendale, non possedeva la marchiatura dell'ufficio metrico. Sono stati così sequestrati i monili in oro marchiati con il punzone falso per un peso complessivo di oltre 17 chili e per un valore di circa 700.000 euro. Sono in corso anche accertamenti volti a verificare la corrispondenza tra il titolo dichiarato e quello effettivo. Il presidente del consiglio di amministrazione della società è stato infine denunciato per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autentificazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.